Ehi la ciurma! Io sono Mazzotest e ben ritrovati qui in un nuovissimo video di Maintest Itam! Qua sto mettendo a fare un pochetto di gravel perché ho visto che per alcune costruzioni serviva un fracco e non ne avevamo molta E quindi sto facendo alcune tonnellate di stack di gravel ma adesso vi faccio vedere perché ho iniziato finalmente la costruzione della nostra barca quella grande della ciurma Ma con grande intendo proprio enorme tanto che mi ci metterò un sacco Sto seguendo un tutorial per una barca fatta su Minecraft che ho trovato su internet, su Youtube Adesso non mi ricordo più il nome preciso del video però ve lo metterò nei commenti, cioè nella descrizione se per caso mi ricordo Se non me lo ricordo ricordatelo E niente cosa volevo dire? A parte che mi sta laggando un po' non so come mai, forse perché appena sta ricaricando il mondo Comunque il video in questione è un tutorial passo passo, ma velocizzato un po' per quello che si può E dura un po' ecco E dura un'ora e mezza Ecco io ho messo tipo boh mettete Tipo Due ore per farne 10 minuti Una roba del genere Era anche la parte più difficile Perché era la parte sott'acqua E in più ho fatto un paio di casini Quello secondo me è stata un'imprecisione mia e del video Perché a un certo punto Perché mi sono buggato? A un certo punto Ah ma ne avevo lasciato già un'altra qua Ops, vabbè Perché non scendi? Ok Perché a un certo punto Il tizio diceva Questa è la parte da fare sott'acqua Mentre io non l'avevo sentito E quindi avevo iniziato a fare tutta la parte E quindi Questa per ora è la nave E ho fatto solo la parte sott'acqua Come potete vedere Però ha richiesto un fracco di tempo Uno perché era sott'acqua E sapete che lavorare sott'acqua è un bel 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 casino Perché devi continuare a prendere ossigeno Infatti qua sotto Adesso non ci sono perché sono sepolte Ma ci sono tre porte Che utilizzavo per prendere ossigeno Mentre mi spostavo sott'acqua Perché era davvero Ma questa roba qua l'ho messa io? No era già così Vabbè C'era sempre da prendere acqua Il piccolo casino rispetto a Minecraft È che le fence non si collegano con tutti i blocchi Ma solo tra di loro Di conseguenza questo che doveva essere tutto attaccato Non sta venendo bellissimo Però è una parte sott'acqua E quindi Diciamo Non è Troppo rilevante Questo sarebbe il timone ecco Con cui si gira quella barca E da quella parte invece sarebbe la parte di prua Questa è la poppa e quella è la prua Cosa è quello che vuol dire? In più dopo aver costruito tutta questa baradana Come potete vedere qua c'è tutta la parte della prua È alto mi pare 8 Ci sono 8 layer Che sono tutti con uno schema preciso da utilizzare Sennò poi non torna più nulla In più appunto la prima volta l'avevo fatta giusta Ma l'avevo fatta in alto Quindi sarebbe stata tipo sospesa nell'aria Quindi ho dovuto distruggere tutto E rifarla sotto Questi saranno poi i tre alberi Quelli che potete vedere qua Quello maestro Questo di trinchetto E l'altro non lo so Questo mi pare che sia di trinchetto quello davanti Vabbè comunque E qua ho dovuto usare tipo Credo una ventina di stack di materiale Che cade insomma tipo la gravel tipo la sabbia eccetera eccetera Per togliere l'acqua che c'era sotto Perché altrimenti togliere tutta quell'acqua che c'era qua in mezzo Ci sarebbe voluto una vita in mezzo In più adesso non ho più avuto modo di continuarla Perché a breve ci saranno Ci sarà sessione di settembre degli esami E vorrei provare a dare tre esami Per provare a passarli E di conseguenza Non ho più tanto tempo Dovrei poi togliere tutta questa gravel E iniziare a fare i piani superiori Mi pare di aver capito che il layout non sarà pieno dentro Cioè sarà solo una questione estetica all'esterno Ma poi dopo ci potremo pensare a quello volendo Tanto vi ci vorrà già tantissimo tempo per portare a termine questo Che è un lavoro davvero immenso Però spero che vi possa piacere Per ora a me sta piacendo come sta venendo Ed è un... proprio un... Un bel layout secondo me di una nave Spero che venga bene con il fatto che qua ci sono meno tipi di legno Perché quello essendo fatto in Minecraft Ci sono tutti i tipi di legno Come la... La... La birch Il... L'hawkwood Il... Come si chiama quello più scuro? Lo spruce Wood E quindi lui utilizzava un po' tutti e tre Mentre io ho semplicemente Il... La possibilità di usare il tronco pieno Oppure le... Le planche di legno Quelli la che ho piazzato sono tutti i tronchi pieni Infatti mi sono andati via Credo una decina di stack di... Di tronchi Per fare quel layout la E infatti Non so se ci basterà il legno che abbiamo per ora Per finire tutto E... E quindi boh Spero che i contrasti vengano comunque abbastanza carini Nonostante questo fatto Cioè di utilizzare meno legno So che qua Avendo la mod... Plant life di Vanessa Ci sono anche tutti gli altri legni Tipo quello l'alpino Le palme che abbiamo visto prima Solo che il casino è che sono degli alberi Molto più complicati da farmare Rispetto a quelli di... Di minecraft E rispetto a quelli base Perché anche avendo una motosega Richiedono parecchio tempo E... Parecchie energie E in più... Non... Non... Non si possono piantare Facilmente come gli altri Cioè hanno bisogno di molto più spazio Non puoi farne delle farm Cioè... Tecnicamente potrei fare una farm Ma sarebbe una roba assurda Dovrei fare tipo... 40 block breaker Non lo so Cioè per una... Una sequoia No questo è un pino forse Non è una sequoia E... Sì perchè c'ha le pigni E cosa voglio dire? Questo qua... Guardate... Già solo di altezza Sarà... 20 blocchi? Sì... Saranno 20 di blocchi In più... Non è un solo... Affare Sono tipo... Quanto è? Uno... Qua ce ne tre In mezzo... E uno... Quindi sono cinque... Per venti... Quindi sarebbero già cento... Più... Bisogna contare che ci sono tutti quegli affari la... Che rimarrebbero bugati tra le foglie... Le foglie non cadrebbero... E quindi bisognerebbe tutto ripulire la mano... Quindi è una roba assurda... E quindi ho detto... Per un progetto del genere... Non posso mettermi a farmare quantità enormi di alberi... Di tipi strani... E di conseguenza utilizzeremo semplicemente il legno... Che viene da questa farm di alberi qua... Mi sembra la cosa più intuitiva da fare... Perché altrimenti c'è da uscire pazzi... E... Non voglio assolutamente uscire pazzo... Ma neanche voi lo volete... Perché poi... Comunque un progetto del genere ci metterebbe... Un'eternità... E non credo di riuscire a portarlo neanche a termine... Ecco... E quindi... Questo è quanto... Vediamo un attimo qua quanta... Pietro c'è... Ah ma... Non sono andato a sbuggare il... Award Anchor... Che da quanto... Sembra... Se... Uno... Ok adesso sto correndo... Ehm... Se uno... Eh no infatti vedete... Se uno esce dal mondo... E rientra... Qual è segnato come attivo? Ma non è attivo... Quindi bisogna sempre andare la... Disabilitarlo... Riabilitarlo... Già che ci siamo... Abilitiamo anche questo... Che c'è qua dietro... Perché deve... Forse la cosa più comoda... Sarebbe metterlo su un server... Ma io non ho i soldi... Per pagarmi un server... Per una roba del genere... Così... Totalmente amatoriale... Eh... E quindi... Boh... Però... Lo lasciamo così... Dovrò continuamente andare... Mettere e togliere... Mettere e togliere... Mettere e togliere... Mettere e togliere... Enable, Disable... Enable, Disable... Enable, Disable... Già che ci siamo... Facciamo anche questo... Anche se comunque... Siamo già a metà video... Quindi non so quanto altro... Farmeranno nel frattempo... Però almeno un pochettino... Ci mette una vita adesso... Sì... Perché ho un sacco di... Caricati quello... Ma... Visto che regge... Preferisco abbondare... Piuttosto che... Difficile... Mellius abbondare... Quam difficile... Eh... E... Boh... Mentre invece adesso... Se noi ci avviciniamo... Ma volete vedere che inizia... A farmare questo... No? Non sto facendo niente... Forse non è questione del... Del... Block Breaker... Cioè... Della World Anchor... Forse è il fatto che c'è... Dalla lava sotto... Quindi dovremmo andare a controllare... Perché... Questo è attivo, no? Continuiamo prima di scendere giù... Eh sì... Enabled... Però... Non sta succedendo niente... Ho paura che ci sia... Dalla lava... E non so ne che sia... Dalla gravel dietro... 336 metri sotto... No... No non c'è lava... Perché è bloccato? Ah no... Ok... Sta andando... Pian piano ma va... Si... Non ha una velocità folle... Eh... Rispetto a quello di Minecraft... Che ha... Va... Una velocità pazza... Proprio... Scatenata... Si è alimentato... A massima energia... Però... Diciamo che non è... Un problema... Basta semplicemente aspettare... E avere pazienza... Ah no... Qua sta scavando... Ma perché non vedo... I blocchi che partono... Ah... Adesso si... Ma ne ho visto uno solo... Vabbè... Ah no... Ok... Vabbè... È solo un problema di... Di niente... Insomma... Ecco... Un problema proprio così... Vediamo tra l'altro... Qua si è aumentata un po' la... La lana e il pane... Perché ero rimasto un po' FK... Per farmare... Minerali... E... E... Temo che voi non l'aviate visto... Nello scorso video... Ma qua ho sistemato... Il... Ho sistemato tutti i collegamenti... Cioè... Allora... Ho messo... Qua sotto... E... E... Sono dei minerali che vanno trattati... Quindi salgono su... Però non ci stavano tutti nel bianco... Cioè... Tutti nel... Rosso... E quindi alcuni li ho messi là... Ho messo un altro teleport pipe... Che... E... Va a... Lavorazione... Mentre qua ci sono i preziosi... Che sono poi in realtà i preziosi... E il... Carbone... Perché anche il carbone è mandato in là... Perché non è da trattare... E... E... Vanno in là questi... Più... Ce ne saranno altri qua... Come appunto... Per esempio l'uranium... Che non è prezioso... Ma non è da lavorare... Perché non viene grindato l'uranium... In realtà... Ci sarà poi anche... No... Il mithril no... Ehm... Stavo pensando che potrebbe essere... Anche il caso di... Fare invece un'uscita apposta per il coal... In modo da fare direttamente dei blocchi... In modo che non mi si riempia di... Di roba... Cioè... Fare tipo un'uscita qua... Per il coal qua... Un autocrafter... Che fa appunto da 9 blocchi di coal... Un blocco... Cioè da 9 unità di coal... Un blocco di coal... E qua... Il... Teletrasporto... Che lo manda... In... Preziosi... Che è la cesta di là... Che c'è a casa... Qua invece è varie... Dove appunto ci staranno tutte le cose... Che non sono né preziose né da lavorare... E... Resteranno qua... Perché a spostarle a casa... Avrei avuto un sacco di casini con la cesta... Di conseguenza le lascio qua... Qua so che... Se avrò bisogno di granito... Di marmo... O di ossidiana... O appunto dei blocchi più semplici... Come possono essere la gravel... La dirt... E la... No... La stone... No... Perché vai in là... Potrò andare in là... Ecco... Qua c'è il teleport... Che appunto... Trasferisce qua... In questa wooden chest... Che manda... Il nostro... Sistema di lavorazione... Come... È sempre accaduto... Tra l'altro qua abbiamo anche dei... Degli autocrafter in più... Credo che potrei prendere uno... Per mettere sotto per il coal... E farlo anche abbastanza subito... Tanto credo che... Il... Il mese per il teleport... Tube... Ce l'abbiamo... Di conseguenza... Ehm... Va bene... Cioè possiamo farlo... Proprio direttamente... Qua c'è un altro cesto che ho messo... Perché... A un certo punto... Qua... Si riempie tutto di cobblestone... E inizia a sputarla fuori... Allora per evitare che andasse persa... O che mi facesse laggare il mondo... O tutte e due le cose contemporaneamente... Ehm... Ho messo un... Un... Vacuum pipe... E... Ehm... Vacuum tube... O come si chiama... Insomma quello che aspira tutto... E... Ehm... Che manda questa cesta... In modo da non perdere unità... Qua ci sono un po' di... Unità di gravel... Che credo che andrò a mettere poi dopo nel mio zainetto qua... No nel mio zainetto 2... Pensavo di tenere uno zainetto 2... Ah no... Questo è quello per la... Vabbè... Tengo uno zainetto per del materiale da lavoro insomma... Come può essere la gravel... Che può servirmi sia per sbuggare il... 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 Quarry quando è pieno di lava sotto... Che... Per lavorare insomma... In giro per fare dei vari... Tanto gli zaini ce li abbiamo quindi... Non mi fa male portarmi dietro del materiale da costruzione comodo come la gravel... Che è comodo per il fatto appunto che precipita quindi può... Uccidere tipo... Non so come dire... Può... Asciugare tra virgolette... Che poi non è proprio asciugare perché va a sostituire il blocco... Tecnicamente... Però... Asciuga l'acqua piuttosto che la lava... E in più si scava facilmente perché con... Una diamond sword... Sword... La... Fai abbastanza in fretta... E allo stesso tempo è molto più facile craftarla che non la sabbia... Perché la sabbia bisognerebbe cuocere... La cobblestone e poi grindarla... Mentre invece qua basta direttamente grindarla cobblestone e gg... Qua ho spostato le ceste... Ho messo quella dei lavorati qua in fondo... Al posto di... I materiali tecnologici... Ecco le ho switchate... Facendo una... In pratica... Un sistema con dei... Come si chiamano quei? I filter injector... Di stack... Che mandavano da questa a un'altra... Quindi li ho lasciati in quest'altra ceste... Poi da quella con il... Sempre il filter injector li mandavo qua... E poi da quella li ho mandati là... E poi li ho eliminato quella ceste... Così ho dovuto... Cioè ho semplicemente fatto altro... Nel frattempo non ho dovuto mettermi a spostare mano mano tutta sta roba qua... Sennò poi ci perdevo una vita e mezza... Perché poi dovevo spostarla... Non mi ci sarà tutto nell'inventare... Dovevo metterla... Insomma hanno fatto tutto per me... Così ho la possibilità di avere il tubo del teletrasporto qua sotto... Come potete vedere... Senza che si attacchi all'altro... Perché qua non c'è niente che riceve... Mentre qua riceve ma appunto non è collegato a quell'altro... Un altro motivo per cui non ho messo le varie che arrivino direttamente qua... Oltre al fatto che avrebbero già riempito più della cesta d'oro... È il fatto che bisogna... Quante volte ho detto il fatto che... Boh... Vabbè era necessario spostare questa cesta... Perché altrimenti si sarebbe unito con quell'altro tube... Quindi buonanotte secche... Cos'è che volevo fare... Volevo fare una questione per il coal... In modo da non riempirci di coal... Perché qua... Il coal è la cosa che forse scava di più dopo la cobblestone... Probabilmente... E quindi... È un po' un casino... Se però noi prendiamo uno di quei tubi che ci sono... Di quegli autocrafter che ci sono al pieno di sopra... Allora qua ho bisogno di copper coal... Sì... Il problema di questi più che altro è... Stupido contro la logic unit... Che... Non è complesso ma è lungo... Perché devi fare il silicon buffer... Quindi devi prendere due di sand e due di coal dust... Quindi due di coal dust... Due di sand... Se non altro c'è il fatto che qua dobbiamo farne solo uno... Perché quello di arrivo... Ecco... Perché c'è della gravel nella fornace? Boh... Forse perché si era... Avevo girato maniera... Questo prima... E quindi mi mandava l'output là... Ehm... Hai abbastanza energia per farmi un... Silicon buffer? Ebbene sand e coal dust no? Sand e coal dust... Un silicon buffer... Me lo fai un silicon buffer? Cosa c'è? Ah... Ok... Boh... Si vede che non l'aveva riconosciuto... Che ne so io... Allora... Ehm... Poi... Un gold wire... Forse ce l'abbiamo anche due copper coil e un chromium ingot... Il chromium tra l'altro sta sempre più diminuendo... Perché... Ehm... Per questo tipo di cose serve un sacco... Ehm... No... Naturalmente il gold wire quando serve non c'è mai... Allora... Pappa però... I due di copper non l'ho preso... Stupido che sono... Allora i due di copper... Coppa... I due di copper li andiamo a mettere qua... Qua... No... Si... Si 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 così... E questo è andato... Poi abbiamo bisogno di un altro fracco di copper... Per fare quei... Questi stupidi... Copper coil... Che hanno bisogno di copper e di... Ehm... Allora... Ognuno di quelli ha bisogno di... 6 di copper... Quindi 12... Perché ne ha bisogno di 4... Che ce ne servono... 6... Si... E 8 di ferro... Quindi... Qua prendo... Stiamo riempiendo parecchio di ferro... Eh... Come potete... Vedere... Qua sono tutti i... I minerali che erano là... Che non erano ancora stati trattati... E... Ehm... 12... Quindi ce ne servirebbero 2... Quindi andiamo così... Uuuu... Nooo... Oddio... Quanto odio quando fa così... Allora... Un 2... Allora... Quello ce l'abbiamo... Ehm... Un 2... 3... 4... Un 2... 3... 4... Un 2... 3... 4... E questi ci sono... Poi... Allora... Così... Uno lo lasciamo qua... E poi facciamo... Così... E loro due ci sono... Poi abbiamo bisogno dei due tubi... E di cos'altro i 4... 4 unità di mese... Tra l'altro... Se non ricordo male... Si... È proprio questa la ricetta... Eh... Avevo provato a fare questo... Perché dico... Alla fine... Spreco un'unità di mese in più... Ma... Eh... Alla fine... Tanto ne ho abbastanza... È molto più semplice... Non devi perderci 40 ore... Perché... Questi sono i plastic sheet... Che ne abbiamo in quantità industriale... E desert stone... Anche ne abbiamo parecchie... E quindi... Ne vale la pena... Solo che... Non funziona... Credo che non funzioni... Perché... È la ricetta dei... Pipework... Se uno non ha... La... Tecnic... Perché la... Pipework funziona sia per la Tecnic... Che... Per quelli che non hanno la Tecnic... Volendo... Possono fare dei sistemi di cavi... Lo stesso... E... Quindi... Questa è se non hai la Tecnic... Ma se hai la Tecnic... Sei obbligato a usare questa... Che è più complessa... Ma... Vabbè... Abbiamo tutto... Tranne i due tubi... Che possiamo prendere qua... Molto... Velocemente... Quindi adesso andiamo a fare... Z... 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 1... 2... 3... 4... No... Questo non c'entra un Kaiser... Mi sono confuso con un altro Recipe... E tutto questo per uno stupido teleport... Stupido... Segment... Che... Noi... Setteremo poi su preziosi... E ci manderemo il Coal... Tutto questo è semplicemente per non avere il Coal in mezzo ai piedi... Però... Almeno faccio un pochettino di progress... Anche in questo video... Perché poi non so quanti... Video potrò far uscire ancora di... Maintest nelle prossime settimane... Per il fatto che appunto non ho tempo... E quindi... L'altro lo lascio così... Sì... Chi se ne frega... Anche se... Questo... Dovrei metterlo in realtà... Però... Poi ci pensiamo un'altra volta... Adesso non ho... Tanto tempo... E sono già passati 20 minuti... Voi vi starete stufando di sicuro di questo... Non far nulla... Ehm... Allora... Quindi metto qua... 9 unità di Coal ce l'ho per fortuna... Metto qua il carbone... E... Li metto come... Output... Questa... Teleport... Stupid pipe... In... Che va in... Preziosi si chiamava... Vero? Giochi preziosi! Pubblicità... Pubblicità occulta... Preziosi... Ok... Allora... Vediamo se l'ha preso... No... Io non so come mai ma... No con la maiuscola... Preziosi... Sì perché è sensibile alla capitalizzazione... Ciò vuol dire che è sensibile se ci sono maiuscole o minuscole... Cioè non è la stessa cosa se scrivi maiuscole o minuscole... Send only... Cioè se tu non gli clicchi quel pulsante... Non prende quello che gli hai scritto... Se premi invio, se premi fuori... Non prende comunque... Adesso dobbiamo andare però su quell'altro e dirgli... Eh... Ehi guarda che il carbone me lo devi mandare... Su... Il carbone va tolto di qua... Ok... Anzi ci mettiamo l'altro qua... Questo uran... Ma l'uranio non ce l'ho dietro però... Ehm... Carbone... Lo mettiamo sul blu quindi... On... E adesso il carbone dovrebbe mandarlo di qua... Accumularlo qua... E poi mandarlo a casetta... Perfetto... Così non avremo più di quei problemi... Detto questo... Io credo che per questo episodio possa essere abbastanza... Visto che sono già 24 minuti... 24 lunghissimi minuti... E vorrei anche registrare qualcos'altro... Ehm... Quindi io... Vi saluto... Vi invito a lasciare un mi piace al video... Se per caso vi fosse piaciuto... E se siete arrivati fino a questo punto... Credo ben di sì... Lasciare un commento... E... Iscrivervi se per caso... Non l'aveste già fatto... Io sono Mazzetessi... Vi saluto... E vi auguro una buonissima giornata... Ciao a tutti...